Con l'arrivo della stagione estiva tornano anche i ticket sulle spiagge. Siamo quest'oggi ad Abbadia in compagnia del consigliere comunale Pietro Radaelli per fare un po' di chiarezza su quelle che saranno le strategie che appunto il Comune ha deciso di adottare in vista della stagione estiva in un contesto che ancora ci chiede qualche appunto un po' di pazienza per stare sulle spiagge. Allora consigliere, quali sono innanzitutto gli aspetti principali che andranno a condizionare l'afflusso e appunto l'arrivo insomma delle persone nei tre parchi di Abbadia Lariana? Buongiorno a tutti. Sì, anche quest'anno dobbiamo ancora fare qualche rinuncia per il contesto pandemico in cui ci troviamo. Questo perché le linee guida del governo sono le stesse identiche dell'anno scorso. E quindi anche noi come amministrazione comunale dobbiamo trovarci all'interno dei parchi comunali a mettere alcune limitazioni dovute, come sappiamo, al distanziamento e a tutto ciò che ne consegue. Per cui per gestire un contesto così complesso come quello del Comune di Abbadia che ha tantissimi chilometri di spiaggia, tantissime aree verdi a lago, ci siamo dovuti affidare ancora una volta ai ticket a pagamento per quanto riguarda il parco di Chiesarotta dove ci troviamo in questo momento e il parco Ulisse Guzzi, i due parchi principali del litorale del nostro comune. In particolare abbiamo scelto quest'anno di abbassare la tariffa del ticket, questo dovuto a una stima più precisa dei costi del distanziamento dovuta chiaramente anche all'esperienza dell'anno scorso a 3,50 invece che 4 come l'anno scorso e di far pagare questo ticket solamente nei giorni di maggiore afflusso per cui il sabato e la domenica dove ci siamo ritrovati l'anno scorso ma anche all'inizio di questa stagione estiva ad avere un grandissimo afflusso di persone difficilmente gestibile fate conto che la popolazione del comune triplica durante i giorni festivi per cui ci troviamo in una situazione veramente difficile da gestire e questo ticket chiaramente potrà fare un pochino più da filtro e ci aiuterà chiaramente a garantire le condizioni di sicurezza per tutti i bagnanti. Consigliere, questa è appunto una strategia che avete adottato per il secondo anno di fila, la domanda che sorge spontanea è ma era l'unica alternativa possibile quella di monetizzare un luogo che di fatto è anche frequentato da giovani, da persone giovani che quindi si trovano a dover pagare per appunto stare su un pezzo di terra verde vicino al lago. Era l'unica alternativa possibile a distanza di un anno e mezzo all'inizio della pandemia? Purtroppo sì, era l'unica alternativa possibile per quanto riguarda questi parchi. Ci abbiamo tenuto quest'anno però a non mettere più il ticket durante i giorni feriali, giorni chiaramente più frequentati da persone giovani e che magari non avrebbero pagato quel ticket, di abbassare la tariffa comunque per venire incontro anche magari alle famiglie numerose però comunque mantenere il ticket sia per un filtro sia per mantenere le condizioni di sicurezza è stato imprescindibile. Già l'anno scorso ci siamo resi conto che una gestione del genere era l'unica possibile tant'è che anche altri comuni poi ci hanno chiesto un po' come abbiamo fatto a gestire perché sono stati piacevolmente impressionati dalla nostra gestione. Chiaramente il nostro contesto è molto complicato per cui per un comune così piccolo ricordo che Abbadia ha solamente 3.000 abitanti e quindi anche un bilancio contenuto si devono cercare delle strategie proprio per garantire la salute pubblica e garantire la possibilità per tutti di stare bene sulle nostre spiagge che per noi chiaramente è il primo obiettivo. Abbiamo parlato del parco di Chiesarotta, abbiamo parlato del parco Ulisse Guzzi Pradello è come dire un tasto dolente che già lo scorso anno aveva causato non poche polemiche il fatto di appunto aver introdotto un ticket. Per ora avete deciso di mantenere l'accesso libero a questa zona verde come mai e insomma che cosa vi aspettate? Sì non lo definirei un tasto dolente chiaramente ci sono state tante polemiche nell'anno passato che abbiamo affrontato comunque a testa alta e crediamo comunque di aver fatto un buon lavoro chiaramente per quanto riguarda la gestione di questi luoghi non c'è come vedere come la gente si comporta e quali sono gli afflussi e chiaramente anche noi non abbiamo la sfera di cristallo quindi non possiamo sapere esattamente come andranno i flussi come sarebbero andati l'estate scorsa e come andranno quest'estate per adesso per quanto riguarda il parco di Pradello per diverse questioni logistiche abbiamo deciso di tenere l'accesso libero vedremo come andrà la stagione, quali saranno gli afflussi chiaramente se ci saranno grandissimi assembramenti ci riserveremo di considerarlo come il parco di Chiesarotta e il parco Ulisse Guzzi per cui inserendo un ticket a pagamento ma ancora non abbiamo questi dati ricordo comunque che per tutti coloro che volessero usufruire delle spiagge e quindi senza utilizzare un ticket cioè senza dover pagare un ticket per entrare anche il sabato e la domenica tutte le spiagge demaniali quindi non gestite direttamente dall'amministrazione comunale rimangono libere sempre sia a Pradello sia su tutto il litorale di Abbadia questo perché appunto le spiagge appartengono al demanio e frutto di un accordo tra l'autorità di Bacino che è questo ente preposto a gestire le spiagge demaniali e gli esercenti del litorale un terzo delle spiagge saranno gestite direttamente dagli esercenti i restanti due terzi saranno a disposizione dei bagnanti come spiagge libere